Salve a tutti, grazie per esservi collegati. Un saluto dalla parte dell'Associazione Culturale Sankirtan Yoga. La conferenza di oggi pomeriggio verrà data da Pierpaolo Marras o meglio Prema Kumar Das. Se vi viene troppo difficile potete chiamarlo semplicemente Prema. Prema si è laureato in ingegneria delle telecomunicazioni e ha praticato in questo campo ma parallelamente ha sempre seguito un'altra via che è quella della ricerca filosofica perché infatti ha approfondito la cultura filosofica dell'antica India, l'antica letteratura e sapienza dei veda, dello yoga e della meditazione. Ha studiato la filosofia vedica e il bhakti yoga con maestri e ha conseguito il titolo di bhakti shastri presso il bhaktivedanta college in belgio. I suoi studi tecnici l'hanno sempre aiutato a vedere le cose in maniera logica, razionale, si può dire che lui è un ingegnere del karma e quindi ha adottato un approccio scientifico anche nella sua ricerca. Lui collabora come insegnante di filosofia dello yoga e meditazione presso diverse scuole di yoga come lo yoga teacher training in Italia. Collabora anche con educazione vedica che è una piattaforma di e-learning italiana che riguarda lo studio di veda. Prema ha scritto anche un libro sulla meditazione e sul concetto di illusione. Il titolo è tra illusione e realtà, la meditazione nello yoga. e per chi ama la musica ha anche edito un cd chiamato Raga of the soul, Raga il canto dell'anima. infatti lui ama la musica e questo cd è nel genere musicale del kirtan che è il canto di mantra, antichi mantra indiani. Prema Kumara ha studiato e approfondito l'astrologia vedica, sempre con un approccio razionale, anzi diremo sovra razionale, che è completamente l'opposto dell'approccio irrazionale a cui uno potrebbe abbinare lo studio dello yoga, dell'astrologia. Infatti in India si studia con maestri da generazioni e questa conoscenza è passata per via orale da maestro discepolo. E' una conoscenza antichissima e molto molto profonda. Prema, Prema Kumara, ha studiato lo Jyotish. Jyotish è parte dei veda e lo studio dell'astrologia, così come viene descritto, compilato e approfondito nei testi vedici. Ma Prema Kumara ha studiato anche altri testi vedici come la Bhagavad Gita, lo Shimad Bhagavatam e le epopee come il Mabhara, Terra Mahayana, di cui anche fornisce uno studio su Facebook, sul suo sito, sul suo profilo, perché Prema Kumara ha anche un suo profilo, una sua associazione. Infatti ha fondato anche l'associazione Yoga delle Stelle. Per chi è interessato e vuole approfondire ad esempio il suo tema natale, capire qual è la sua missione in questa vita, quali sono i suoi talenti, allora si può rivolgere a Prema Kumara. Prema ha studiato con vari astrologi vedici di fama anche internazionale, ad esempio studiato all'International Diploma Advanced Studies in Vedic Astrology, presso la Dira Academy, riconosciuta dal Council of Vedic Astrology. Ha approfondito ulteriormente con un grande maestro di Jyotish, alla Devaguru Brihaspati Center, con l'astrologo Sanjay Rat, che insegna proprio l'astrologia secondo l'antichissima tradizione della scuola di Jyotish dell'Orissa. Bene, spero che questa introduzione vi abbia stimolato e adesso ascolteremo Prema Kumar, Pierpaolo Marras, Prema, che ci parlerà di cinque fasi della crisi, secondo l'antica scienza dello yoga. Chi di noi non ha avuto una crisi, quindi è giusto sapere come si svolge e in quali fasi magari ci troviamo e ovviamente anche come risolvere questa crisi in grandi opportunità. Bene, buon ascolto a tutti, buon pomeriggio e grazie. Grazie Citra, grazie Yajoda, grazie Mangalananda e Govindandini, che fanno parte dell'Associazione Sankhina Yoga, che mi ha invitato a parlare nel loro canale Facebook, di questo argomento che vedremo oggi, le cinque fasi della crisi secondo la tradizione dello yoga. E ho scritto un piccolo trafiletto, crisi e opportunità. A volte pensiamo che la crisi sia qualcosa di solamente negativo, mentre nella tradizione dello yoga la crisi è anche una grande opportunità. Quindi sembrano due parole antitetiche, ma si incontrano quando noi in qualche modo abbiamo una visione più matura, più profonda del significato della vita e del significato dell'essere, dell'esistenza. E quindi oggi vedremo un parallelismo tra le cinque fasi della crisi di una famosissima psicologa svizzera e le fasi della crisi come le troviamo nella Bhagavad Gita, nello Shiman Bhagavatam. E quindi faremo un piccolo viaggio nelle fasi della crisi secondo la tradizione dello yoga e i testi dello yoga. Siete pronti? Iniziamo subito. Prima di tutto quello che vedremo sono le fasi della crisi secondo questa psicologa svizzera, Elisabeth Kubler-Ross, 1926-2004. Lei ha individuato, lavorando con svariati pazienti, aiutando differenti persone a superare le crisi della vita, cinque fasi della crisi. E quello che mi ha stupito sempre quando ho iniziato a leggere la letteratura dello yoga è che tutte le grandi epopee, i Purana che sono i racconti antichi dello yoga, l'Eityasa che sono le storie delle dinastie regali e al cui interno troviamo Ramayana di cui faccio un podcast come ha detto Chita regolarmente sto facendo delle letture da Ramayana da questo testo epico. Questo testo epico in qualche modo è un continuo manifestarsi di crisi, di crisi che vengono risolte da questi personaggi. Ci sono personaggi divini, Ramayana, divini nel senso che hanno una natura divina, una natura volta al bene e ci sono personaggi ottenebrati. Ottenebrati nel senso che vanno verso il buio, verso l'oscurità, verso la degradazione. È come un vettore, come una forza che muove l'uomo verso l'alto o verso il basso. Questi personaggi affrontano la crisi in modi diversi. La crisi può essere un'opportunità per chi ha il vettore che va verso l'alto ed è quello che vedremo oggi. Quindi nel Ramayana troviamo ad esempio Rama, il protagonista, tra l'altro non è neanche un essere umano e comune, un essere umano divino che entra in crisi perché deve andare in esilio, deve superare grandi difficoltà, c'è la morte del padre e deve in qualche modo soffrire di questa morte e farsi una ragione di questo lutto. C'è l'esilio a cui viene costretto e quindi stava proprio per diventare un re e viene mandato in esilio per tantissimi, per un decennio. Poi cosa succede? Durante il Ramayana Sita viene rapita, la moglie di Rama viene rapita e Rama affronta un'altra grandissima crisi e deve risolvere questa crisi. La paura di perdere la persona amata, la paura di non ritrovare più, lo sforzo di riprendere i propri pezzi per trovare una soluzione al problema. Nel Bhagavata Purana, nello Shiman Bhagatan troviamo tante crisi e come grandi personalità superano queste crisi. Nel Mahabharata, un'altra ityasa in cui è incastonata la Bhagavad Gita, uno dei testi fondamentali dello yoga, troviamo la crisi di Arjuna. Arjuna che deve combattere contro i suoi stessi familiari in questa battaglia mondiale, la battaglia di Kurukshetra. Arjuna entrerà in crisi, entra in crisi Arjuna, poi lo vedremo perché faremo un'analisi di questo, entra in crisi perché è davanti alla morte, al lutto delle persone care. Una delle crisi più grandi, più grande ancora della mia personale morte è l'idea che le persone care intorno a me muoiano. E poi abbiamo lo Shiman Bhagatan, nello Shiman Bhagatan abbiamo tantissime storie ma la storia centrale, la storia che è contenitore potremmo dire, che racchiude poi tutte le altre storie che verranno narrate come un dialogo tra il personaggio iniziale, questo Sukadeva Goswami che è Sukadeva Goswami e Maharaj Parishit, tra guru e discepolo, in cui il re Maharaj Parishit morirà, deve morire, è venuto a sapere che la sua morte è imminente, solo sette giorni e la sua vita in questo corpo finirà. Quindi lo Shiman Bhagatan parte con una grossa crisi esistenziale che prende il tema della morte, uno dei temi più paurosi ovviamente. Quali sono le paure più grandi? Perché le paure più grandi creano anche le crisi più grandi. La paura della morte, la paura della malattia, la paura di essere traditi, di perdere la persona amata per un tradimento, di perdere la persona amata per una malattia, la nostra malattia, la malattia delle persone care, la povertà, la paura di non riuscire a mantenersi, ecco tutte queste paure sono di per sé capaci di generare crisi. Ma tra le paure, la paura più grande è considerata la paura della morte e non la paura della morte intesa come l'accessazione del corpo. Ciò che fa paura è l'accessazione dell'esistenza. Dunque la Bhagavad Gita e lo Shiman Bhagatan affrontano il tema della morte. Lo Shiman Bhagatan è il tema della propria morte, come superare la paura della morte, è la crisi esistenziale che ne deriva, e la Bhagavad Gita come superare la paura della morte delle persone care. Sono due tematiche. Se una persona supera queste paure, praticamente non c'è più niente da aver paura nel mondo. Possiamo dire che, come piace dire a me, è il caso peggiore. Quando un ingegnere costruisce un ponte e sa che su quel ponte passeranno camion che pesano quelle decine di tonnellate, non costruirà il ponte in modo che passino esattamente quella decina di tonnellate, ma prenderà il caso peggiore. Immaginatevi che tutto il ponte sia, abbia una fila di camion pieni, di tir pieni. Ecco, qual è questo peso? Non succederà mai, succederà proprio raramente. Però se succedesse, io costruisco il ponte in modo che regga quel carico e magari un po' di più, in modo da essere proprio sicuri che quel ponte non cadrà mai. Allora, se passa una bicicletta, sono tranquillo. Se passa una macchina, sono tranquillo, perché ho progettato il ponte in modo che anche i numerevoli camion possono passare senza far distruggere il ponte. Così la nostra psiche è in grado di sorreggere determinati pesi a seconda della filosofia e di come abbiamo coltivato la nostra dimensione psichica. Ci sono persone che sono in grado di reggere situazioni molto difficili e persone invece che vanno in panico con piccole cose. Immaginatevi una persona che ha molto paura per la sua salute. Magari un piccolo taglio o un piccolo dolore o qualcosa che può in qualche modo fargli paura per la salute può creare già un grande trauma. E poi ci sono persone che invece riescono a affrontare ad esempio cancro a cuor leggero, vedendoci un insegnamento e sopportando in qualche modo tutti i passaggi per la guarigione con una facilità maggiore di una persona che invece affronta magari una situazione più delicata, meno forte. Quindi dipende molto la nostra capacità dalla filosofia che abbiamo. Perché la filosofia, chiaramente quando parlo di filosofia nella tradizione dello yoga non si parla di una filosofia che rimane a livello intellettivo ma di una filosofia che è capace di creare e dare forza alla psiche in modo che riesca a superare la crisi. E tutta questa filosofia è espressa e viene proprio sottolineato questo fatto proprio dalla partenza di questi testi nella Bhagavad Gita, nello Sriman Bhagatan questi testi che partono con questa grandissima crisi correlata all'evento più tragico della vita che può essere tragico ma la Bhagavad Gita spiegherà che anche l'evento morte per chi ha nel suo substrato intellettivo si è nutrito di nozioni di eternità dell'essere, di eternità dell'anima la morte non è più la cessazione dell'esistenza ma è una trasformazione e addirittura è l'opportunità di ottenere la liberazione anche se questa non è stata ottenuta in vita qui la perfezione in questo momento di passaggio può essere ottenuta proprio all'interno di quella crisi che è l'evento morte e addirittura Arjuna nella Bhagavad Gita che paura della sua morte essendo un guerriero non l'aveva proprio Arjuna era coraggioso come guerriero era abituato a mettere a rischio la sua vita nei combattimenti quindi la paura della morte non gli faceva non ce l'aveva della sua morte ma quello che lo bloccò e lo traumatizzò è la paura della morte delle persone care per quanti di voi la paura della morte delle persone care è ancora in qualche modo più più forte chi ha figli lo sa della propria dell'idea della propria morte ecco Arjuna dovrà sfidare questa paura e dovrà riuscire in qualche modo a creare una psiche forte in modo da da risolvere in qualche modo questo tipo di paura e la risoluzione di una paura così grande permette in qualche modo di risolvere tutte le altre paure più piccole quindi possiamo dire che la morte o la morte di un caro è il caso peggiore ma se noi costruiamo una psiche che è capace di elaborare digerire anche una situazione del genere vuol dire che la nostra psiche è in grado di digerire qualunque tipo di crisi per questo le due pietre miliari dello yoga la Bhagavad Gita lo Shiman Bhagavatam iniziano parlando con dei personaggi che devono affrontare le crisi più grandi che un uomo o una donna può affrontare nella propria vita ok c'è un punto fondamentale qualunque crisi in realtà è una crisi di identità qualunque crisi in realtà è una crisi che riguarda l'identità dell'individuo sia che la crisi venga da un tradimento il tradimento mi costringe a rivedere la mia identità ad esempio la crisi può venire da un cambiamento in cui cambia il mio status e da un certo punto di vista muore una parte di me e ne deve rinascere un'altra quindi vedete anche la correlazione con la nascita e la morte ad esempio chi di voi non è entrato in crisi quando è passato dalle medie alle dalle elementari alle medie dalle medie alle superiori dalle medie e dalle superiori all'università dall'università al mondo del lavoro sapete che le persone vanno in crisi quando passano dal mondo del lavoro alla pensione? queste crisi avvengono perché c'è un cambiamento di identità qualunque cambiamento di identità crea una crisi perché ci costringe a riscrivere il concetto di identità quello che noi chiamiamo in sanscritto aham cara aham vuol dire io cara significa la caratteristica la caratteristica dell'io chi sono io chi penso di essere ciò che in qualche modo penso che sia io ok quando il corpo invecchia per una persona che ha dato una grande importanza al corpo durante la vita immaginatevi una modella immaginatevi un modello immaginatevi un culturista immaginatevi uno sportivo capace di di compiere grandi imprese che vede che il suo corpo degenera questa è una crisi di identità ok è una crisi di identità la crisi di identità tutte le crisi sono assimilabili al concetto di identità la morte cos'è pensiamoci è la cessazione dell'esistenza di qualcosa ok ma cos'è che cessa di esistere ecco per lo yoga non cessa di esistere il sé l'entità vivente è la coscienza la coscienza continua ad esistere trasmigando eventualmente di corpo in corpo quello che cessa di esistere è la mia identificazione col corpo di nuovo la morte è una crisi di identità se io paradossalmente facciamo questo ragionamento fossi identificato non col mio corpo o con la mia psiche che in qualche modo cessano di esistere nella forma in cui erano in questa vita e fossi identificato con la coscienza che dà vita al corpo ma che non cessa di esistere col corpo per me questa il lasciare il mio involucro non sarebbe una crisi di identità quindi uno dei punti cardine del ragionamento che fa la letteratura dello yoga e la letteratura vedica che ogni crisi qualunque crisi pensate alle crisi che avete avuto nella vostra vita qualunque crisi vi ha costretto a rivedervi in un modo diverso per poter superare la crisi cosa vuol dire questo che ogni crisi in realtà è una crisi di identità ci siete ogni crisi è una crisi di identità quindi qual è la soluzione dobbiamo lavorare sul nostro senso di identità per questo nel primo capitolo della Bhagavad Gita e parte del secondo possiamo osservare le varie fasi della crisi di Arjuna faremo anche delle piccole letture se vi va ma poi dal secondo capitolo quando Arjuna chiederà a Krishna al suo maestro di dargli dei suggerimenti per uscire dalla crisi e vedremo come lo psicologo Krishna Krishna è il parama psicologo il psicologo superiore come Krishna in qualche modo inizierà a lavorare sull'essenza dell'identità di Arjuna e quando noi lavoriamo sulla nostra identità ovviamente stiamo lavorando anche sulla nostra visione degli altri perché non possiamo più vederli come prima ok quindi prima di immergerci nella crisi e nelle cinque fasi della crisi nella Bhagavad Gita vedremo che non sono cinque nella Bhagavad Gita ma sono almeno sette è un po' più dettagliato rispetto alla visione della psicologa svizzera ma c'è una stretta correlazione voglio farvela osservare voglio farvela vedere perché è interessante perché stiamo parlando di stiamo confrontando stiamo facendo un parallelismo ricordiamoci questo tra una psicologa del 1900 e un testo che per la tradizione risale a cinquemila anni fa quindi è interessante è un parallelismo interessante per questo perché paragoniamo qualcosa di estremamente moderno con un testo sapienziale che vedremo non ha nulla da invidiare poi per quanto conoscenza della mente di manas della psiche rispetto alla psicologia moderna ok pronti iniziamo dai cinque fasi della crisi e iniziamo dalla prima fase allora ci sono cinque fasi della crisi la fase della negazione la fase della collera la fase della contrattazione la fase della depressione e quella dell'accettazione le vediamo prima una alla volta poi vi farò il parallelismo con i testi come la bhagavaghita prenderemo di riferimento la bhagavaghita per adesso anche se in corso d'opera potrei anche fare dei parallelismi con altri testi ok quando c'è la crisi è inevitabile che noi passiamo per delle fasi e a volte passiamo in queste fasi in modo ricostivo quindi smettiamo una fase andiamo in un'altra fase poi magari arriviamo a una certa fase ritorniamo indietro quindi non è detto che sia un avanzamento lineare ok c'è un'altra cosa interessante da dire possiamo fare un parallelismo quando vi parlerò di questi argomenti provate a prendere un esempio di una crisi che è successa nella vostra vita in modo da poter in qualche modo iniziare anche un processo di autoosservazione quindi iniziarsi a vedere è come se quando noi entriamo in crisi come vi ho detto poi è una crisi di identità e questa crisi di identità questo concetto della crisi di identità è fondamentale poi per capire perché Krishna parlerà della identità spirituale ad Arjuna come primo argomento della Bhagavad Gita e non magari di altri argomenti proprio perché Krishna inizia subito a lavorare alla radice della personalità di Arjuna ok se non vi viene in mente nessun avvenimento particolare della vostra vita in cui siete stati in crisi prendete il lockdown che abbiamo appena vissuto provate a immaginare come vi siete comportati cosa avete vissuto durante il lockdown questa parola inglese che vuol dire ingabbiato praticamente lockdown provate a immaginare come abbiamo reagito singolarmente o come hanno ragito le persone intorno a noi e questo può essere un altro ottimo strumento di introspezione autoanalisi perché se queste cose non le applichiamo e non le vediamo tramite esempi servono a poco ovviamente qui la fase della negazione genera un senso di incredulità il rifiuto alla negazione della realtà la frase tipica è non può essere nella fase della negazione abbiamo è successo qualcosa che ne so ha lasciato il corpo il mio cane e io ero affezionato dal mio cane era con me da 15 anni no non può essere non può essere così non può essere successo nella fase della negazione io faccio finta di niente e continuo a vivere la vita anestetizzando i miei sentimenti ad esempio se la cosa è palese oppure non ci voglio credere quindi nego la realtà ok provate a immaginarvi nel lockdown no questa cosa non c'è non c'è questa situazione non c'è quell'altra adesso non entro in merito perché ci sarebbero tante sue accettature del lockdown di cui parlare perché bisognerbbe vedere cosa si è negato e cosa non si è negato di tutto ciò che è successo ma a parte questo prendete generalmente la crisi noi cerchiamo di negare perché non vogliamo accettare che sia successa una cosa non vogliamo accettare che sia successa quella cosa e tendiamo a negarla la frase tipica è no non può essere non può essere non può essere così quindi non è così io la nego è un'energia ragiasica perché il raggio 1 è l'energia passionale perché la persona continua ad agire come se nulla fosse quindi io continuo ad agire ho ricevuto l'informazione che mi ha messo in crisi ma la nego non la lascio entrare non contato le mie emozioni che sono correlate a quella situazione quindi la cosa non può essere quindi io non sto soffrendo adesso perché l'ho negato finché non prenderò consapevolezza che è successa veramente quella cosa sapete esistono anche lutti ideologici immaginatevi che il vostro che ne so insegnante yoga oppure che che ne so una persona di cui avete fiducia e a un certo punto scoprite che è malintenzionato o che fa cose non coerenti ecco questo la persona non è morta però è morta la l'idea che quella persona rappresentava ok anche quello è un lutto è un lutto ideologico anche quella è una crisi di identità perché mette in discussione la nostra persona in relazione con quella persona la nostra facoltà di scelta e così via ecco molto spesso quando succedono queste cose le persone non vogliono crederci e negano a priori anche se ci sono fatti evidenti questo fa parte della fase della negazione ve l'ho declinato in vari modi provate a usare proprio l'immaginazione guardate una vostra crisi più vostre crisi guardate qual è il primo approccio ok chiaro non tutti passano per questo approccio passano subito al secondo approccio il secondo approccio quando avviene la seconda fase quando avviene la fase della collera avviene quando io mi accorgo che quella cosa è avvenuta veramente che quella situazione è avvenuta quindi ne ho preso consapevolezza ma considero che è una cosa ingiusta quindi mi porta a un senso di frustrazione impotenza ingiustizia che a volte si può manifestare in esplosione di collera o irascibilità o a volte si può utilizzare alcuni utilizzano questo Marte diremmo in astrologia in modo logico utilizzando la logica come un avvocato che trova tutti i cavilli vedi che è così vedi che cosa vedi che non può essere così vedi che non può essere cosa anche la logica la forte logica utilizzata per far vedere come quella cosa che è successa è un'ingiustizia fa parte della fase della collera e la frase tipica è non è giusto ecco generalmente le persone si iniziano ad accorgere che qualcosa non va nella persona quindi che è entrata in crisi da questa fase nella fase prima uno dice ah guarda se l'è vissuta bene comunque gli è successa quella cosa ma è tranquillo ha fatto baccarotta però è tranquillo no e quella persona sta negando la crisi perché l'ha risolta o l'ha digerita la sta negando quando se ne accorgerà la fase più probabile è la fase della collera c'è chi passa direttamente alla quarta fase della depressione ma generalmente si arriva prima nell'ingiustizia si arriva nel fatto che non è giusto per quello quell'altro quell'altro ancora ecco in questa fase c'è un'energia tamasica invece distruttiva perché perché la persona inizia a manifestare questa collera che può bruciare le relazioni intorno a lui e le relazioni con gli altri se la persona ha un ente o qualcuno con cui sfogarsi generalmente si sfogherà con quell'ente facendo ricorsi facendo una serie di cose e se non c'è un ente se non c'è un modo per sfogarsi in un qualche modo la persona potrebbe accumulare e sfogare contro se stessa oppure contro le persone intorno a sé ok durante il lockdown c'erano le cosiddette vedette che erano delle signore o dei signori che si appollaiavano proprio con una posizione di appollaiavamento sui cornicioni dei loro balconi per guardare se qualcuno di nascosto andava a respirare un po' di aria pubblica magari contaminandola con così tanto coronavirus e chiamava la polizia per perché questi delinquenti questi malfattori queste persone che stavano mettendo a repontaglio la salute pubblica come se fossero l'Ore non l'OMG o i politici che abbiamo queste persone che facevano questo atto così grave dovevano finire in prigione o quantomeno sanzionate ecco questa è una manifestazione della collera della fase della collera quindi quando vedete una persona che conosce queste fasi e guarda la cosa con compassione la persona sta soffrendo non è capace ancora di gestire la sua crisi d'identità la paura per il futuro e manifesta un'energia distruttiva verso gli altri questa si chiama fase della collera ci siete? io vedo solo chi è qua su zoom con me ma poi se volete chi c'è su facebook o anche su zoom se volete scrivermi in chat delle domande su quello che stiamo dicendo poi verranno lette alla fine della sessione ok terza fase la fase della contrattazione questa è una fase molto interessante è una fase che in qualche modo in cui mi sono accorto che c'è la crisi mi sono accorto che arrabbiarmi non serve a niente cerco soluzioni per aggirare l'ostacolo sentite bene questa parola non superare l'ostacolo ma aggirare l'ostacolo vorrei che l'ostacolo non ci fosse allora farei di tutto se qualcuno mi dà una soluzione ah c'è il coronavirus beh esiste se qualcuno mi dice c'è un vaccino o c'è che ne so devi fare una donazione all'OMG e ti passerà e non avrai più pericolo io lo faccio subito istantaneamente perché voglio evitare voglio evitare qualunque cosa che mi dice una persona che mi può evitare il mio problema e quindi non che mi aiuta a superare il problema ma che mi può evitare il problema io l'accetto questa è la fase più pericolosa perché è la fase in cui si può essere più potentemente manipolati se arriva qualcuno con una soluzione con l'elisir della lunga vita con che ne so la pillola capace di salvare ecco la io l'accetto subito e questa è la fase in cui si è più la persona è più manipolabile vedremo anche in Arjuna la fortuna di Arjuna è che in questa fase avvicino Krishna e non una multinazionale ad esempio la fase della contrattazione ci genera un senso di altanerale tra sconforto e speranza in cui cerchiamo di concentrarci sulle strategie per riprendere il controllo della nostra vita e su questo non c'è niente di male ma questo controllo è per aggirare il problema non per risolverlo quindi se qualcuno mi toglie questa situazione vi faccio un esempio della fase della contrattazione se una persona è stata tradita da una relazione in una relazione la contrattazione può essere non elaborare il tradimento o la persona ha avuto un lutto nella relazione di qualunque tipo e perché è stato lasciato o perché il partner non c'è più o perché il partner ha fatto determinate cose ecco la contrattazione è che arriva un uomo o una donna che ti consola e parte una nuova relazione questo è un esempio di contrattazione la contrattazione è che c'è il coronavirus arriva un medico e propone questa propone che tutti devono indossare le mascherine che tutti devono stare a casa e se questo mi toglie il virus io l'accetto a priori senza ragionare non voglio neanche ripensarci se tu mi dici questo io lo faccio ecco è la fase così dedicata in cui accettiamo le cose senza neanche ragionare ok scusate se sto prendendo come parallelismo il coronavirus e so che ci sono tante politiche a riguardo e non voglio chiaramente entrare in merito a questo ma è per dare l'idea che noi nel momento della contrattazione siamo pronti ad accettare tutto quindi la frase tipica è ma speriamo che tutto questo finisca presto quante lunghe telefonate avete fatto durante il lockdown con i vostri cari e alla fine e alla fine della della chiamata il mantra perché il mantra non sono solo vedici ci li possiamo anche creare il mantra era ma speriamo dai che tutto finisca bene ma dai speriamo che finisca presto vi è mai capitato ogni conversazione bene o male finiva così dai speriamo che alla fine finisca presto ecco molto spesso è possibile che chi lo dice veramente non abbia sia in questa fase della contrattazione raggia è già creativa la persona continua ad agire cercando i compromessi che rendono ancora la vita bella e quindi eliminano momentaneamente la crisi non è come ecco questa fase vi faccio l'esempio è come se avete mal di testa e accettato un'aspirina non avete eliminato il problema ma in qualche modo non c'è più il mal di testa in quel momento poi magari ritornerà perché magari è dovuto allo stress e se uno non si ferma lo stress continua se uno non medita lo stress continua se uno non respira profondamente lo stress continua ok cosa abbiamo la fase della depressione ecco questa è la frase è la fase mentre nella fase della contrattazione è subdola quindi uno potrebbe dire ah guarda la sta prendendo bene nella fase della contrattazione perché comunque non mostra segni di in cui sta male in cui si sente male non sta così male dopo tutto no perché comunque sta trovando delle soluzioni sembrano delle soluzioni quelle della contrattazione ma è sempre un non voler affrontare il problema la fase della depressione ecco nella fase della depressione ecco finalmente le persone intorno capiscono che la persona è in crisi ecco c'erano già tanti segnali di questo ma la persona se ne accorge in questa fase chi durante il lockdown non ha passato anche la fase della depressione in cui c'è un profondo senso di malessere interiore che crea un circolo vizioso che amplifica il malessere quindi io sto male perché c'è questa situazione di crisi mi demoralizzo e questo mi fa stare ancora male e qui c'è un circolo vizioso sintomi come mal di testa variazione del peso corporeo o aumento o diminuzione chi di voi di notte durante il lockdown non andava a svaliggiare il frigo poi abbiamo o diminuzione persone che non mangiano irritabilità che poi si manifesta in problemi relazionali sapete il problema più grande del lockdown e che abbiamo chiuso in casa famiglie che erano abituate a vedersi qualche ora al giorno le abbiamo messe in casa a vedersi 24 ore su 24 e non erano abituate e non erano abituate a lavorare su loro stesse quindi capire che la crisi è qualcosa di interiore che non dipende dal mio partner e del mio figlio o dal mio cane e quindi si sono scannate e adesso con venere retrogrado i nodi incominciano a uscire le tecniche sapete il tasso di divorzi e di separazioni in questo periodo è altissimo ci sono studi che lo correllano al lockdown ok quindi nella fase di depressione irritabilità tristezza perenne difficoltà a concentrarsi poverini ragazzi anche questi ragazzi che hanno dovuto fare questi esami a scuola e cosa pensate anche loro comunque con queste con questa situazione c'è chi ha gestito un po' meglio chi ha gestito un po' peggio chi si è chi tra i ragazzi ha dovuto sorbire appunto i conflitti in casa le tensioni in casa tensioni per paura perché l'economia andava in un certo modo per paura di salute tensioni tra le persone e così via anche questi ragazzi immaginatevi la facoltà di concentrarsi in questo periodo disturbi del sonno insonnia o eccessiva sonnolenza e il desiderio di isolarsi sono indicativi di questa fase la frase tipica è la mia vita è finita non vedo futuro è un'energia tamasica perché è un'energia distruttiva e la persona può questa volta essere distruttiva nei confronti di se stessi e ovviamente questo si ripercuote anche sugli altri l'ultima fase la quinta fase è la fase dell'accettazione è la fase in cui se può essere può essere una fase conclusiva risolutiva se c'è un cambio di identità se avviene questo cambiamento dell'identità se viene un riaggiustamento dell'identità se non avviene un riaggiustamento dell'identità e quindi l'identità o l'accettazione è solo parziale c'è il rischio di tornare indietro e ripassare le fasi più e più volte ecco nella fase dell'accettazione porta a ricercare un senso a tutto ciò che accade o è accaduto comprendere che c'è un ordine cosmico e quindi la mia identità è in correlazione a quest'ordine cosmico ci sono leggi della natura ecco nello yoga diremo c'è la legge del karma c'è il dharma c'è un progetto divino nonché porta a un'analisi cosciente della situazione presente della lezione che dobbiamo imparare nella vita quindi c'è sempre una lezione che dobbiamo imparare se impariamo quella lezione in ogni caso ne usciamo più forti la frase tipica è a tutto c'è un senso questa visione ha lo scopo di aiutarci a progettare un futuro migliore mantenendo un rinnovato entusiasmo ecco questa tra tutte le fasi è l'unica energia sattva o l'energia di virtù evolutiva dove la persona può risolvere la crisi chiaro che dipende tutto da quanto ha compreso la sua identità rispetto al problema per questo in testi come la Bhagavad Gita lo Shiman Bhagavatam si va a lavorare sull'identità più essenziale dell'essere che è l'identità spirituale e quindi a guadagnare una maggiore consapevolezza di sé e del mondo la crisi come opportunità diventa un'opportunità quando ricostruisce il mio ego Ankara la mia idea di me che è la fondamenta del mio Manas del mio Buddhi della mia mente della mia intelletto quando questo Ankara è ricostruito e prima viene destrutturato dalle fasi precedenti della crisi quando viene ricostruito da questa destrutturazione è come se abbiamo un castello l'ego smontiamo i mattoncini perché questo castello non funziona va male non permette di difendere il mio regno allora stacco tutti i mattoncini e ho l'opportunità di ricreare un nuovo castello le fondamenta di questo nuovo castello in modo che sia più solido quando c'è stato il terremoto cosa ha mostrato il terremoto che determinate case non erano fatte secondo determinati canoni che permettevano di reggere i terremoti dunque il processo di ristabilire risvegliare riscoprire la mia identità che è uno dei cardini dello yoga infatti la definizione più universale dello yoga è lo yoga è la pratica che aiuta il praticante a superare gli ostacoli della mente in modo da riscoprire da risparci nella vera identità del sé quindi questa vera identità del sé è quell'identità che è capace di tollerare qualunque scossa nella vita e velocemente ritrovare l'equilibrio e andare avanti verso la propria evoluzione ecco questa identità possiamo dire che è un'identità antisismica nel parallelismo del terremoto che abbiamo fatto prima ok quindi dei testi come la Bhagavad Gita vediamo appunto questo e questo concetto di identità è strettamente connesso ai due modi che ha lo yoga di definire l'individuo nella versione olistica da olos dal tutto a differenti strati a differenti livelli il corpo è il nostro veicolo la psiche la psiche è il software di questo veicolo dove abbiamo manas la mente buddhi l'intelletto e sotto di me ankara l'ego o la concezione che ho di me ecco l'ankara è l'ara di che è costituito da due fattori io e mio io nel senso di senso di identità e mio nel senso di concetto di possessività ciò che è in relazione al mio concetto di io ciò che io possiedo vuol dire che è in relazione al mio concetto di mio quindi il concetto di l'ankara stabilisce il concetto di io che significa la mia identità e il concetto di mio che significa le cose che sono in relazione a me quindi il concetto di io proiettato nel mondo nelle cose intorno a me quindi per superare la crisi è necessario in qualche modo riscrivere e rivalutare quel concetto di io e mio che sono risultati inadeguati per quel dato evento della mia vita che mi ha messo in crisi molto semplice adesso non vi parlerò nel dettaglio di questi strati ma possiamo vederli anche altre volte ma uno è uno stadio che è questa differenziazione tra corpo denso e corpo sottile dove il corpo denso è il corpo fatto di materia di liquidi di solidi di tessuti e così via e il corpo sottile è il corpo psichico o la psiche che è divisa in modo conveniente nella tradizione evelica in apparati funzionali che svolgono determinate funzioni psichiche e l'altro sono i cinque kosha che chi fa yoga conosce bene da Anna Mayakosha per Anna Mayakosha il corpo fisico il corpo fatto di prana di respiro il corpo fatto di mente di psiche il corpo fatto di conoscenza vigyana e il corpo fatto di beatitudine che è Anna Mayakosha sono due modi differenti che lo yoga ha di vedere l'identità dell'individuo ma come vedete entrambi i modi puntano al fatto che la radice dell'individuo è questo atma o questo sé spirituale eterno vedete l'assonanza tra atma e atomo atomo inteso come parte più piccola di qualcosa ecco l'atma è la parte più piccola della coscienza l'atomo di coscienza ecco quest'atomo di coscienza non muore quando il corpo muore è al di là del corpo ma allo stesso tempo dà elettricità al corpo dà vita al corpo ok adesso facciamo un piccolo escursus per vedere nella Bhagavad Gita queste cinque fasi della crisi ok vedremo che c'è qualcuna in più ok iniziamo subito la Bhagavad Gita inizia in un campo di battaglia e nel campo di battaglia Arjuna il condottiero è della fazione dei buoni dei deva la Bhagavad Gita nel sedicesimo capitolo dirà che esistono due tipi di persone le persone che sono attratte dagli alti valori e le persone che sono attratte dalla vita età ok quindi Arjuna si trova davanti a questa guerra in cui combatterà praticamente la sua famiglia tutta la sua famiglia allargata la dinastia regale a cui lui appartiene e tutte le dinastie che sono connesse ad Arjuna quindi Arjuna entra in crisi perché perché è possibile che i suoi cari possano morire ok quindi Arjuna inizia dalla fase della negazione andiamo subito allora la prima parte della Bhagavad Gita viene introdotto il fatto che ci sono due eserciti da una parte c'è una fazione dall'altra dall'altra fazione e Arjuna è nella fazione dei buoni possiamo dire per farla molto semplice e Duriodana invece è nella fazione dei cattivi degli avidi ecco il Arjuna è nel campo di battaglia pronto a combattere quindi non è in crisi non appare in crisi perché Arjuna è nella fase della negazione quindi Arjuna non appare in crisi anzi lui soffierà la sua conchiglia e poi a un certo punto dopo che tutti hanno suonato la conchiglia che è proprio un atto militare vedico in cui vuol dire guardate che sono pronti a combattere sono pronti a spaccarvi tutti suonando la conchiglia e Arjuna chiede a Krishna nel verso 21 e 22 di portare il suo carro Krishna sta facendo il suo cocchiere non so se avete mai visto questa bellissima immagine dove c'è Arjuna sul carro e Krishna che guida fa la origa guida i suoi cavalli e quindi Arjuna dice a Krishna portami e ancora con questo tono militare con questo tono Arjuna si sente un forte guerriero pronto a combattere non è per niente in crisi eppure sa benissimo chi sarà là a combattere ma in qualche modo dentro di sé Arjuna non può essere Arjuna nella fase della negazione quindi voglio vedere portami portami il mio carro tra questi due eserciti così che io possa vedere chi è presente là chi desida combattere voglio vedere chi contenderà si contenderà in questo grande combattimento fammi vedere chi è venuto a combattere desiderando di soddisfare i figli cattivi dalla mente ottenebrata di Diltarastra l'altra fazione questa battaglia è il frutto di intrighi politici pesantissimi che hanno visto i cinque fratelli di cui Arjuna è proprio uno di questi cinque veramente traditi umiliati praticamente questa non è una battaglia che ha niente di di sacro è una battaglia è un combattimento di giustizia è un combattimento politico Arjuna è un guerriero e deve combattere questo è il suo ruolo è un generale ed è l'unico che può fare qualcosa in qualche modo per risolvere questa situazione quindi cosa succede? O discendente di Barata Arjuna portò Krishna portò Arjuna nel mezzo dei due eserciti nel mezzo dei due eserciti è interessante perché nel mezzo dei due eserciti la frase sanskita è senayoru bayor madie ecco questa frase la vedremo anche dopo perché ci sarà è come se Krishna portasse nel mezzo dei due eserciti Arjuna due volte una volta un Arjuna inconsapevole e l'altra volta un Arjuna che ha capito cosa frullava nella sua testa qual era la sua crisi ve lo farò notare a breve ok quindi dal verso in questi due versi Arjuna ancora non si è accorto nega che ci sia il problema ok quindi Krishna lo porta nel mezzo dei due eserciti e nella presenza di Bhishma Drona che sono proprio le persone che Arjuna non vorrebbe vedere morire e degli altri re del mondo Krishna disse guarda Arjuna guarda Arjuna tutti i Kuru tutta la tua dinastia è proprio qua davanti a te quindi Arjuna poter vedere nel mezzo dei due eserciti vedete verso 26 di nuovo abbiamo Semayor Ubayor Senayor Ubayor Ubayor vuol dire nel mezzo Sena Sena sono gli eserciti le armate militari quindi Arjuna nella seconda fase quindi Arjuna entra prima di tutto tra i due eserciti in modo inconsapevole nella fase della negazione dopodiché dopo che Krishna gli dice guarda che ci sono tutti assemblati qua lo sapevi ma l'hai dovuto guardare con i tuoi occhi per accorgertene a volte abbiamo bisogno di prove schiaccianti per uscire fuori dalla fase della negazione deve proprio essere davanti a noi nella nostra faccia quindi Arjuna dai versi 26 e 27 prende coscienza di quello che sta succedendo quindi questa fase questa seconda fase che è una fase intermedia possiamo dire che è una fase dello scoraggiamento in cui Arjuna prende un lo vedremo a breve che sarà la prima forma di depressione quindi nella Bhagavad Gita troviamo che prima della collera c'è una prima fase di depressione che non è così pesante come la fase della depressione che vedremo più avanti ma ve lo farò vedere c'è una presa di coscienza nel verso 26 e 27 Arjuna potè vedere in mezzo ai due eserciti vedete in mezzo ai due eserciti i suoi fratelli i suoi parenti gli insegnanti zii figli nipoti amici tutte le persone care quando il figlio di Kunti quando Arjuna vide questi differenti gradi di amicizie e di parenti diventò overwhelmed diventò sopraffatto dalla compassione e parlò così così qua Arjuna nei versi 26 e 27 si accorge della crisi quindi smette di negarla ma vediamo cosa succede quando smette di negarla non passa subito alla collera non passa subito alla collera ma passa per uno stadio intermedio quindi già nella letteratura della Bhagavad Gita troviamo uno stadio intermedio rispetto allo stadio della collera vediamo qual è verso 28 vedendo i miei amici Arjuna disse vedendo i miei amici i parenti che vogliono combattere con questo spirito bellicoso sento le membra del mio corpo che tremano e la mia moccacina ridisce verso 28 verso 29 il mio intero corpo sta tremando e i miei peli si rizzano il mio arco mi scivola dalle mani e la mia pelle brucia non sono capace di stare qua vorrei scappare mi sto dimenticando di me stesso e la mia mente sta la mia mente vacilla vedo solo cause di sfortuna o Krishna uccisore del demone Keshi non vedo nessun bene nell'uccino ecco poi parte la seconda una terza fase vediamo subito allora in questa fase cosa succede è la fase dello scoraggiamento notate questa è la fase dello scoraggiamento è come una forma di depressione ma in questa fase Arjuna riuscirà a uscirne da solo molto spesso invece nella fase della depressione acuta abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuta a uscirne e lo vedremo più avanti nella Bhagavad Gita quindi questa forma di crisi questa forma di depressione di Arjuna Arjuna riesce a uscirne passando nella fase della collera siete pronti per accedere alla fase della collera? ok quindi qua c'è una fase intermedia rispetto a quelle che aveva individato Kubler-Ross che è la fase della presa di coscienza che si tramunta in uno scoraggiamento ma dallo scoraggiamento non è un colpo di grazia da cui Arjuna non riesce a uscirne e ha bisogno di qualcuno ha bisogno di uno psicologo ha bisogno di un aiuto esterno di un amico no ne esce da solo come ne esce utilizzando l'energia della collera nel caso di Arjuna questa energia della collera si manifesterà prevalentemente nella logica e inizia a dire che non vedo niente di buono nell'uccidere le persone care non vedo piacere nella vittoria nel regno anche se vincessimo e così via che non ci sarebbe felicità perché non avremo persone con cui condividere tutta una logica dal verso 31 32 fino al verso 36 che in qualche modo mostra come la cosa è ingiusta c'è un senso di ingiustizia non è giusta questa cosa inizia a dire tutta una serie di cose che riguardano questa ingiustizia ok e anche se questi uomini sono stati anche se queste persone in qualche modo Arjuna dice non è giusto e sarebbe meglio scappare via dalla situazione qua continua tutta logica se voi leggete questi versi questi versi sono tutta logica tutta logica ho sentito qua cita anche le scritture perché come non è giusto fare certi atti e così via quindi tutto questo capitolo in qualche modo fino al verso 44 Arjuna dice un sacco di motivazioni per cui non è giusto combattere quella battaglia non è giusto che quelle persone stiano facendo quegli atti là e quindi tira fuori come se fosse un avvocato tutti i cavilli che riguardano l'ingiustizia della situazione dopodiché c'è la seconda fase della depressione di Arjuna che dice dai versi 45 e 46 meglio se i figli del Talastra quindi se le altre fazioni mi uccidessero anche se io rimango disarmato quindi io butto le armi e mi faccio uccidere perché non vedo futuro non vedo futuro vi ricordate che una delle caratteristiche della fase della depressione è appunto la perdita di futuro quindi qua abbiamo una seconda fase della depressione ecco in questa fase quindi dopo la collera Arjuna passa alla fase della depressione non vede futuro e avrà bisogno di Krishna nel verso del capitolo 2 Krishna smuove Arjuna e gli dice così mio caro Arjuna queste questo modo di parlare questo modo in cui tu stai ragionando non è proprio di te non è proprio di una persona che conosce il valore della vita e non porterà al successo né in questa vita né nella prossima porterà semplicemente all'infamia questa situazione di depressione in cui sei entrato che ti porta alla non azione è semplicemente una forma di impotenza e non fa parte di te esci fuori da questa debolezza del cuore sorgi o castigatore del nemico questo è un epitoto militare quindi cosa fa adesso in questa seconda fase nella prima fase Krishna nella prima fase di depressione Krishna non agisce perché Arjuna esce fuori da solo attraverso la collera chiaro non è un modo risolutivo ma la depressione porta all'inazione porta a bloccarsi e non permette l'evoluzione quindi Arjuna ne esce ma dopo aver esaminato tutte le situazioni anche con questa logica della fase della collera Arjuna cerca questa contrattazione non combatto me ne vado ok quindi c'è una prima fase di contrattazione quando Arjuna dice io non combatterò questa battaglia per Arjuna il non combattere quindi non fare il suo dovere è la contrattazione perché se non combatto io evito il problema ma evitare il problema non significa superare la crisi e sarà quello che gli dice Krishna in tutta la Bhagavad Gita il tuo dovere è combattere e per superare la crisi devi semplicemente vedere la tua identità e quella degli altri da un'altra prospettiva quindi Arjuna patteggia col desiderio di andarsene dalla battaglia e poi cade in questa seconda depressione non c'è futuro sarebbe meglio mi uccidessero tanto non vedo futuro e allora Krishna in questa frangente quando vede che Arjuna è entrato in un piccolo cerco lo smuove gli dà un piccolo la piccola una piccola scossa elettrica per rianimarlo e allora dopo che Arjuna dice questo dopo che Krishna dice questo Arjuna continua a contrattare diciamo che Krishna ha smosso Arjuna dal tamas da questa energia tamasica della depressione la seconda depressione e questa volta Arjuna ritorna quindi dalla depressione Arjuna ritorna nella fase della contrattazione che è la fase prima e dice ma perché devo combattere con coloro che sono degni della mia adorazione sarebbe meglio vivere mendicando in questo mondo vivere mendicando in questo mondo sarebbe meglio se andassi a fare l'eremita nell'Himalaya quante volte vi è capitato nella vita nei momenti di crisi di pensare io lascio tutto e me ne vado da qualche altra parte io lascio tutto e me ne vado da qualche altra parte ecco questa fa parte della forma della fase della crisi della contrattazione quindi Arjuna se ne andrebbe andrebbe anche a mendicare andrebbe a fare l'eremita si chiuderebbe in un tempio pur di non combattere questa guerra poi arriviamo al verso 7 e 8 che sono sempre parte della contrattazione vi ho detto che la fase della contrattazione può essere molto pericolosa sì perché se venisse dal cielo un deus ex macchina che ci porta una soluzione noi lo accetteremo subito se ci fa evitare la situazione di crisi e allora cosa succede? Arjuna dirà queste due frasi che sono le tipiche di una persona che dice in un altro modo ovviamente con un'altra modalità ma è la tipicità sono confuso non so qual è il mio dovere ho perso la mia il mio savoir mi sento che sono squilibrato a causa di questa debolezza quindi la cosa interessante è che Arjuna riconosce che non è in uno stato forte ha bisogno di aiuto qua nel verso 7 e 8 Arjuna capisce che ha bisogno di aiuto e questo è fantastico ecco dove cercare l'aiuto è la grande domanda del secolo perché se intorno a me ho persone che vogliono manipolarmi che vogliono vendermi qualcosa che vogliono il mio male che sfrutteranno magari questo momento di debolezza perché è il momento più delicato da un punto di vista appunto di poter essere coinvolti di poter essere manipolati sfruttati da altre persone Arjuna è fortunato perché è a fianco a Krishna che è considerato la persona che ha più conoscenza quindi dice in questa condizione ti chiedo di dirmi cos'è meglio per me adesso sono il tuo discepolo e sono abbandonato a te istruiscimi quindi Arjuna cerca guida ecco questa fase della contrattazione è pericolosa perché possiamo cercare guida da persone che non sono capaci di fare le guide per questo le persone sagge nello yoga cercano di avere riferimenti maestri persone avanzate con cui potersi relazionare con cui poter in qualche modo coltivare una relazione perché nel momento della crisi saranno quelle persone di fondamentale importanza per aiutarci a superare la crisi senza compromettere i nostri valori quindi non riesco Arjuna continuerà non riesco a trovare nessun modo per lasciare andare questa sofferenza che provo e che sta bloccando i miei sensi non sono capace di vedere prosperità non riesco a vedere la felicità neanche né nella vincita né nella perdita quindi Arjuna non sa se combattere o non combattere non vede positività e questo verso 8 ci riporta nella fase della depressione perché questo è proprio il sentimento latente è più pericoloso quello di deprimersi ma in qualche modo Arjuna ha fatto un passo fondamentale per uscire dalla crisi chiedere aiuto a una persona saggia ma Arjuna conclude dicendo a Krishna non combatterò quindi va avanti indietro tra contrattazione e collera contrattazione depressione contrattazione depressione e così via va in giro per queste cose ok spero di avervi fatto vedere in qualche modo i vari passaggi come queste fasi della crisi si manifestano e si proiettano il resto del capitolo dal verso allora è interessante prima di tutto questo verso 10 che dopo che Krishna Krishna ha testimoniato osservato tutte queste fasi di Arjuna Krishna nel mezzo di entrambi le armate guardate vi ricordate Senayor Ubayormadie vi ricordate che nel mezzo di queste due armate Arjuna è portato nel campo di nel mezzo del campo di battaglia e parte tutto questo teatro di emozioni tutte queste fasi della crisi nel testo nel verso 10 quando sta per iniziare la soluzione Krishna nella Bhagavita viene riutilizzato il termine Senayorubayormadie nel mezzo dei due eserciti Krishna sorridendo disse le seguenti parole ad Arjuna che era pieno di sofferenza interessante notate come la stessa frase in mezzo ai due eserciti ma cosa cambia non erano anche prima in mezzo ai due eserciti sì ma si può superare la crisi non tanto cambiando le cose la fase della contrattazione ci può far pensare che cambiando una cosa o cambiando quell'altra noi usciamo fuori dalla crisi si può uscire fuori dalla crisi cambiando il nostro stato di coscienza e adesso quello che farà Krishna con Arjuna è cambiare lo stato di coscienza di Arjuna qui cosa farà andrà a lavorare sul senso di identità di Arjuna spiegandogli quello che è chiamato Atma Tattva o il discorso che riguarda l'Atma il Sé la parte più intrinseca della personalità quella parte che non muore quando il corpo muore ok la prima cosa che fa è che lo scuota un attimo e gli dice guarda che ti stai lamentando per cose per cui una persona saggia non si lamenta i saggi non si lamentano né per i vivi né per i morti ok che i saggi non si lamentino né per i vivi né per i morti non significa che i saggi non provano emozioni non vuol dire che un saggio quando un caro lascia il corpo non prova dolore per il fatto che quel caro abbia lasciato il corpo ma non viene distrutto da quel dolore perché lo rielabora da una prospettiva spirituale ok e tutti questi versi dal 12 al 30 dal 12 al 30 spiegano il principio dell'eternità ve ne leggo alcuni velocemente perché poi vi voglio portare al diciottesimo capitolo dove Arjuna ha risolto la crisi chiaramente in mezzo c'è tutta la Bhagavad Gita che vi consiglio di leggere perché è un testo che va proprio a lavorare sulla risoluzione della crisi e noi siamo obbligati in questa vita per un motivo o per un altro a incontrare la crisi quindi tanto più ci abbiamo lavorato quando siamo tranquilli tanto più ci portiamo dietro degli strumenti quando incontreremo la crisi e quindi Krishna inizia a lavorare sul fatto dell'immortalità non c'è mai stato un momento in cui noi non siamo esistiti né tu né io né tutti questi re né nel futuro cesseremo di esistere l'anima incapsulata in un corpo passa continuamente in questo corpo dalla gioventù dall'infanzia fino alla gioventù la maturità e la vecchiaia allo stesso modo l'anima e se l'atma passa in un altro corpo dopo la morte una persona sobria non è mai confusa da questi cambiamenti che sono fisiologici o fuglio di conti la non permanente apparizione della felicità e della sofferenza che sono le dualità di questo mondo e la loro scomparsa a tempo lecito sono come l'apparizione e la sparizione la comparsa del caldo e del freddo dell'inverno e dell'estate vengono dalla percezione sensoriale perché? perché questo atma continua ad andare avanti ho figlio di Barata e uno deve imparare a tollerare questi cambiamenti senza essere disturbato ho migliori tra gli uomini Arjuna la persona che non è disturbata da felicità e sofferenza è fissa ed è certamente elegibile è certamente un candidato per la liberazione questo è un verso interessante non lo tratteremo adesso coloro che sono i veggenti coloro che hanno visto la verità coloro che hanno visto la verità hanno concluso che non c'è una vera esistenza perché è transitorio del corpo materiale e invece non c'è una diminuzione di ciò che è eterno l'anima e hanno e questo l'hanno concluso studiando la natura di entrambi ok sono tutti punti che riguardano la natura divina di questo sé quindi la vera identità dell'essere ciò che pervade l'intero corpo questa elettricità vedi il saggio riflessivo deve comprendere di essere non la mente che non è nient'altro che il software di la mente non è nient'altro che il software di questo computer non è il corpo che è l'hardware ma è l'atma l'atma è la vita che dà vita al corpo e alla psiche ciò che pervade questo corpo devi sapere che è indistruttibile non è distruttibile nessuno è capace di distruggere questo sé eterno il corpo materiale sicuramente arriverà alla fine perciò combattio discendente di barata quindi la morte è inevitabile ma il sé non cessa di esistere quindi cosa sta facendo Krishna da psicologo esperto psicologo sta riportando Arjuna al di là del corpo e della psiche lo sta portando a livello dell'atma perché cosa dite da poco l'anno scorso alla fine dell'anno scorso ho fatto una conferenza per diciamo per medici ma anche per pazienti di oncologia cosa dite una persona che è davanti alla morte dite guarda guarda che finirà presto la vita non ti preoccupare cosa potete dire a una persona del genere potete lavorare a livello psicologico sul piano materiale e no perché il piano materiale sta per finire tutti i paradigmi tutte le priorità il sistema di priorità cambia per una persona che è davanti alla morte o gli proponete una consapevolezza della propria identità spirituale o probabilmente state facendo più danni che altro quindi notate questa sottigliezza chiaro che nella cultura vedica spiritualità psicologia non possono essere scisse perché perché nella visione olistica l'atma che è spirituale è incapsulato in una psiche che è incapsulato in un corpo e queste cose in un sistema olistico sono in costante comunicazione fra di loro ma la parte più radicale è l'atma e quindi Krishna sta puntando il dito sta portando l'attenzione l'attenzione da Juna al sistema di riferimento dell'atma prova a vedere tutto ciò che adesso ti mette in crisi dalla prospettiva della tua identità spirituale e rielabora tutto da quella prospettiva osserva se rielaborando tutto in questo modo i tasselli iniziano a prendere un'altra forma e come vi ho detto la necessità del piano dell'accettazione che poi è risolutiva c'è la necessità di vedere l'ordine cosmico e di vedere che le leggi della natura e il progetto divino stanno compiendo il loro corso per poter affrontare e superare la crisi quindi Krishna sta subito dando un potentissimo mezzo che è quello di ristabilire e questo è proprio yoga in tutte le sue declinazioni ristabilire la mia identità Ankara che potrebbe essere invece proiettata nell'identificazione col corpo o con la psiche di riportarla al nucleo essenziale della psiche l'atma ok per l'anima non c'è nascita né morte in nessun momento non è mai venuta a essere e non cesserà mai di essere è inonnata eterna sempre esistente e primordiale non muore quando il corpo muore ecco qua c'è una bellissima metafora come una persona mette nuovi vestiti lasciando quelli vecchi l'anima in modo simile accetta nuovi corpi materiali e nuove psiche lasciando quelli vecchi e che non servono più l'anima non può mai essere tagliata in pezzi da nessuna arma né bruciata dal fuoco non può essere bagnata dall'acqua non può essere seccata dal vento questa anima individuale è indistruttibile insolubile e non può essere né bruciata né seccata è dura per sempre è presente in ogni luogo non cambia mai è immovibile è eterna allo stesso tempo è invisibile inconcepibile immutabile conoscendo questo non dovresti soffrire per il corpo ok poi gli dà altre ragioni colui che nasce deve morire e dopo la morte colui che muore deve rinascere ok sono trasformazioni e così via e c'è questo bellissimo verso che spiega che comunque questo sé è un percorso asciaria vat asciaria vuol dire incredibile qualcuno dice che questo anima questo sé è incredibile qualcuno lo descrive descrive questo sé come incredibile qualcuno ha sentito parlare di questo sé come incredibile mentre altri anche dopo avendo sentito parlare di questo sé non riescono a capirlo quindi è un processo la comprensione di questa natura spirituale e molte persone che sono identificate con il loro corpo e con la loro psiche soprattutto nella nostra società che ha questa fortissima spinga positivista questa scienza che si è che ha deciso di negare una parte della scienza che è la metafisica per alcune persone comprendere di questo sé spirituale è qualcosa di difficile comprensione ma fa parte ed è una parte essenziale della psicologia dei Veda così gli parla prima di questa prospettiva e dopo gli inizia a parlare del dovere e dopo gli inizia a parlare in ogni capitolo di argomenti differenti che gli spiegano gli fanno vedere ad Arjuna come può rivalutare tutto quello che sta vedendo dalla prospettiva del sé ci sarà riuscito o meno Arjuna arrivare alla fase dell'accettazione e arrivare a uscire fuori dalla crisi vediamo diciottesimo capitolo l'ultimo capitolo tra gli ultimi versi della Bhagavad Gita le ultime parole che dirà Krishna ad Arjuna Krishna gli chiederà nel verso 72 o conquistatore di ricchezza o Arjuna dopo che hai sentito tutto ciò che ci siamo detti perché è stato è stato un dialogo un dialogo e il processo socratico della maieutica Krishna ha tirato fuori da Arjuna possiamo dire questa comprensione ha parlato ha dato degli insegnamenti ma con lo scopo di tirare fuori da Arjuna queste realizzazioni e quindi dopo che abbiamo parlato di questo di Krishna la tua ignoranza le tue illusioni che Arjuna stesso aveva dichiarato di avere sono andate via e Arjuna rispose mio caro Krishna o infallibile la mia illusione è andata via ho riguadagnato la mia memoria grazie alla tua grazia adesso sono fermo è libero da ogni dubbio e sono preparato ad agire vi ricordate che prima Arjuna voleva scappare non voleva affrontare la crisi quindi ora ora ho capito il piano ho capito il piano divino ho capito l'ordine cosmico sono pronto ad agire in accordo con gli insegnamenti che mi hai dato e da qua Arjuna esce dalla crisi combatterà questa grande battaglia uscirà vincitore e otterrà in qualche modo riuscirà in qualche modo a superare questa potentissima crisi in cui era nel modo migliore ad agire nel modo più ottimizzato in cui avrebbe potuto agire e allo stesso tempo a vedere questa crisi come un'opportunità di evoluzione questo in qualche modo di cui abbiamo parlato è il le cinque fasi della crisi secondo la tradizione dello yoga ecco allora no fammi solo riassumere la finale quindi per la risoluzione delle crisi è indispensabile un cambio di coscienza come si legge a volte su su alcuni post di facebook la coscienza che ha è creato il problema non può essere la stessa coscienza che lo risolve quindi quindi un'altra coscienza ci vuole per risolvere il problema quindi è questa la soluzione finale cambio di coscienza cioè è presa di coscienza della propria identità spirituale quindi della soluzione a livello spirituale ma ci vuole un cambio di coscienza per risolvere il problema mi confermi questo ho capito bene esatto possiamo possiamo dire che la radice della crisi sta sta in uno scossone di amkara del falso ego dell'ego dell'identità che si dirama in io e mio quindi quando questi due concetti di io e mio sono in qualche modo sottoscossa dalla crisi devo destrutturare per passare per superare la crisi devo riscrivere un nuovo mio concetto di identità quando io passo dalle medie alle superiori devo riscrivere l'identità quando ero quasi ancora un bambino e divento quasi un adulto tu che citra che sei insegnante sai bene questo nei passaggi proprio si deve riscrivere si deve riscrivere la si deve riscrivere l'identità e riscrivere l'identità è dolorosa perché è doloroso perché in qualche modo anche se noi abbiamo un software che ci crea questa identità noi abbiamo la convinzione di essere che la nostra identità è immutevole anzi proprio nel discorso adolescenziale e la ricerca di chi sono io differente dagli altri cosa mi differenzia dagli altri ecco sto cercando in realtà l'atma ma non sapendo dove trovarla la proietto sulla mia identità corporea sulla mia identità psichica la proietto in qualche modo su sul mio ruolo sociale sulla mia età ho 13 anni rispetto che se ne ho 30 rispetto che se ne ho 50 tutte identità transitorie e quindi quando queste identità cadono la crisi subentra e ancora va riscritto non sono più un 13enne sono diventato un 50enne caspita sono tutt'altra roba quindi lavorare sull'identità significa andare a lavorare riequilibrando riequilibrando questa nostra propensione a cercare un'identità che non cambia immutevole di noi con la vera identità immutevole di noi quella che non cambia anche se il corpo e la psiche cambiano e chiaramente questo è una presa di coscienza questa è una presa di coscienza una coscienza differente ma questo processo come vedremo il secondo capitolo della Bhagavad Gita parla usa questa parola buddhi yoga buddhi yoga vuol dire lo yoga la connessione che si fa attraverso la buddhi l'intelletto quindi parte tutto da una comprensione che noi chiamiamo in santo scritto ghiana e attraverso il percorso dello yoga questa comprensione che inizia come una comprensione teorica diventa una comprensione realizzata ovvero diventa parte della personalità e questo noi lo chiamiamo in sanspito vighyana o conoscenza che diventa realizzata bene grazie grazie molto grazie